buongiorno a tutti sono santo tognazzi vorrei parlare un'idea che abbiamo fatto io e il mio amico giovanni di fare una super lega di calcio per i pensionati che abbiano più di 80 anni in su questa che questo campionato che verrà fatto da ogni zona di di milano e faremo perché ho visto dove sono andato fare il vaccino che c'è un campo di calcio penso con le tribune tutto e vorrei farlo lì questo campionato niente ogni ognuno facciamo dei tre tempi invece di due di 15 minuti o anche prima non so io adesso decideremo quando saremo assieme tutti e fino a quando uno resiste insomma e questo calcio che con ingresso libero facciamo pagare niente a nessuno faremo questo campionato solo alla fine ci sarà il primo il secondo il terzo classificato dalle varie partite ecco e niente vorremmo fare tutto questo per poter contrastare il calcio che non si vede adesso noi potremmo farlo con mascherina anche non so io che sia lecito fare questo campionato qualche modo troveremo la situazione con il comune ci incontreremo e stabiliremo come potremmo farlo siamo sicuri di fare un bel campionato e che sia interessante vi saluto e arrivederci a presto